Momenti terribili per due canoisti rimasti bloccati sul fiume Bacchiglione a Noventa a Padovana. 17 e 27 anni, i due erano rimasti incastrati nel rullo della chiusa. Fortunatamente sono rimasti illesi. A salvarli i vigili del fuoco accorsi con il personale SAF Speleo Alpino Fluviale. Con l'ausilio dell'autoscala un operatore si è calato sulla verticale dove erano rimasti impigliati i kayak, riuscendo a spingere fuori dal rullo le due imbarcazioni ed essere così recuperati dal personale dei vigili del fuoco. I due malcapitati sono stati portati a riva e dopo aver dato loro indumenti asciutti si sono ricongiunti ai propri amici facenti parte del gruppo di escursionisti fluviali della parrocchia di Sarmeola di Rubano in provincia di Padova.